In zona Santa Cecilia di Eboli i carabinieri hanno individuato un'abitazione in costruzione ancora allo stato grezzo, all'interno della quale è stato rinvenuto un cospicuo numero di oggetti di vario tipo, poi accertati essere refurtiva. In particolare sono stati rinvenuti tre autoveicoli rubati in tempi recenti nei territori delle province di Salerno e Potenza, numerosi mezzi ed attrezzi agricoli, pneumatici nuovi di grossa taglia e cerchi in lega per un valore complessivo di circa 15.000 euro, computer e indumenti di vario tipo. Sono state inoltre rinvenute 13 buste contenenti foglie di marijuana per un peso complessivo di quasi 30 chili. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso accertamenti specifici volti ad identificare i proprietari della refurtiva ai fini della restituzione ed indagini serrate volte all'identificazione dei responsabili dei furti.